Non credo che abbiamo un cannone abbastanza grande per quella cosa. L'obiettivo è la vendetta. Noni, il suicidio. Cureremo la genofagia a qualsiasi costo. Il futuro della mia gente dipende da questo. Ma allora spero che l'idea di cui mi parlavi sia valida. A dire il vero era sua. Kalros, la manderemo contro il razziatore. Funzionerà? Già discusso, strategia. Devo solo distrarre il razziatore, allontanarlo da torre mentre cura viene sintetizzata e rilasciata. Cosa vi fa pensare che verrà? Secondo le leggende, è la madre di tutti i divoratori del pianeta. È tanto la sua casa quanto la nostra. Se Tucianka possiede una collera, questa è Kalros. Chi l'ha affrontata non è mai sopravvissuto. Abbiamo attraversato il portale di Omega 4 e siamo vivi. Possiamo farcela. Questo è lo spirito. Come faremo a richiamarla? La torre fu costruita in un'arena dedicata alla gloria di Kalros. I Salarian pensavano che avrebbe tenuto lontani gli intrusi. Sembra che abbia funzionato. Là ci sono due maglie per divoratori, più grossi mai costruiti. Se li attiverete, Kalros verrà. Dovrebbe distrarre il razziatore. Nel frattempo laboratorio vicino. Finirò di sintetizzare cura. Sappiamo perché siamo qui e cosa c'è in ballo, perciò diamoci da fare. Aspetta. Voglio che tu sappia che qualunque cosa succederà, sei stato un campione per il popolo Krogan, amico del clan Urdnot e un fratello per me. Per ogni Krogan nato dopo questo giorno, il nome Shepard sarà sinonimo di ero. Ora mostriamogliene il motivo. Va, qui ci penso io! Sono Urdnotfrax e questo è il mio pianeta! Ci vediamo dall'altra parte. Non morire, Shepard. Avrò cura pronta. Entriamo, forza! Shepard, mi sono liberato di quei racni. Ma qualcuno dovrà alzare quei magli per il miglioratore prima di poterli utilizzare. Siamo piuttosto presi, Frex. Sei fortunato che io sia qui. Ci penso io. Shepard, che fortuna! Ceppo originale e conservato. Sto preparando cura. Fai in fretta, Bordyn. Qua fuori ci sono addosso. Finalmente, il razziatore. State tutti bene? Sto bene, stai. Quasi. Sono stato peggio. L'ansiatore ci ha appena sparato contro. Consideralo un allenamento. D'accordo, Shepard. Alzando i maghi. Dovrei attivarli entrambi. Vi consiglio di evitare il laser gigante. Questa sì che è un'esperienza nuova. Quanti ricordi. Continuate a correre. È dura credere che stiamo per farlo davvero. Questa è la parte più semplice. Non fermiamoci! Comandante, qui è la squadriglia Artimek. Cercheremo di dare a quel razziatore un altro bersaglio a cui sparare. Sapevo che non si sarebbero arrisi. Sulla nostra sinistra, uno dei magli. da nessuno dei magli. Come ci continuate ad oltre resulta una altra storia. Questa poriva! Està porivio! Mordyn, abbiamo attivato il primo maglio. Come va? Quasi erano due. Significa le direbbero in rivoluzione. Sto cercando di commessare. Il secondo maglio è sull'altro lato. C'è parte un po' la d'attivare. Ho un razziatore tra i piedi, Vex. Non lo so, tutto altro è un divertimento. Via, via! Mi occuperò della cura. Non lo so, tutto altro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, nessuna alternativa. Non farò ritorno. Consiglio di allontanarvi. Esplosione potrebbe essere problematica. Morten, no. Shepard, ti prego, devo farlo. Mio progetto, mio lavoro, mia cura, mia responsabilità. Mi sarebbe piaciuto compiere teste su conchiglie. Mi spiace. A me no, dovevo essere io. Qualcun altro avrebbe potuto sbagliare. Attenzione, rilevato mal funzionamento nella temperatura. Attenzione, rilevato mal funzionamento nella temperatura. Ho studiato specie, turia, nasaria e battaria. La temperatura è ora entro un campo accettabile. Dispersione iniziata. E' grande esperto di scienza urbanistica e agraria, perché sono modello perfetto di scienziato. E' grande esperto di scienza urbanistica e agraria, perché sono modello perfetto di scienza urbanistica. Tanto tempo fa, mio padre mi tradì in questo luogo. Il suo stesso figlio cercò di uccidermi. E così fui costretto a ucciderlo. Proprio in quel punto. La genofagia ci aveva ridotto a questo. Ad animali. Oggi tu hai cambiato le cose, Sherland. Ora combatteremo per i nostri figli, non contro di loro. Peccato che Mordin sia dovuto morire. Avrebbe sicuramente voluto così. E sono sicuro che ovunque sia. Sta già mettendo una parola per noi. Chiameremo uno dei bambini come lui. Magari una femmina. Ma comandante, possiamo ringraziare te di persona. Ti hai tu, Rian, che invierò subito le truppe a Palaven. E quando sarai pronto a cacciare i razziatori dalla terra, fammelo sapere. I Krogan sono tornati in affari. Addio, comandante. Cosa farai ora? Diffonderò la speranza che ci hai donato. Ora ci sono clan che si radunano nella valle di Kelphic. Parlerò con loro per fare in modo che questo dono non vada sprecato. Grazie per tutto ciò che hai fatto. E sappi che Urdnot Bacara ti considera un amico. Hai fatto l'impossibile, comandante. Curare la genofagia. Non avrei mai pensato di vederlo con i miei occhi. Rex aiuterai tu, Rian, ammiraglio. Forse avremo il loro completo supporto. Immagino che ciò elimini Salarian dall'equazione. Il prezzo del loro sostegno era troppo alto. Beh, mi fiderò del tuo giudizio, comandante. Speriamo di non averne bisogno. Hackett, chiudo. Comandante, Urdnot Braggs ha iniziato a inviare truppe a Palaven. Lei ha mantenuto la sua parte dell'accordo e ora io manterrò la mia. La gerarchia Turian si schiererà con voi contro i razziatori. Sono contento che possiamo aiutarci a vicenda. Solo così riusciremo a sconfiggere i razziatori. Questo è certo. A questo fine, molte navi sono pronte ad aiutare nell'assemblaggio del crucivolo. Garrus le coordinerà. Sì, signori. E quando verrà il momento di utilizzarlo, la nostra intera flotta sosterrà la Terra. Che gli spiriti veglino su di noi. Inizierò subito a organizzare il supporto Turian, Shepard. Devi essere esausto. La morte di Mortyn. Non deve essere stato facile. Lo riposerò da morto. Sappiamo entrambi che serve una mente fresca per vincere una guerra. Non c'è posto per gli errori. Dovresti riposare un po'. Mi assicurerò che Joker non si lanci in missioni suicide. Se succede qualcosa, informami.